Esistono due mondi, il mondo della narrativa del fantastico, meglio conosciuto come fantastico, e il mondo della narrativa del fantastico che abbraccia la grande letteratura. Orbene, il testo di cui vi sto parlando oggi, ovvero sia Giovanna d'Arco, firmata a Caleb Battiago, che è il nome d'arte che usa il nostro italianissimo Alessandro Manzetti, è uno di quei testi che supera i confini della narrativa del fantastico nella sua puerilità e abbraccia in tutto e per tutto i lidi della grande letteratura. Quando l'autore mi ha anticipato qualcosina di Giovanna d'Arco, devo dire che ho risposto a no, non me la fare leggere, fammela leggere alla fine. Mi anticipava gentilmente dei pezzi via messager, mi diceva ti piace che ne pensi? Io dicevo no, me ne hai parlato così bene che io voglio leggere alla fine tutto com'è. E quando io percepivo il suo entusiasmo, ben comprendevo che credeva veramente in quello che stava facendo. Alessandro Manzetti, che qui si firma a Caleb Battiago, è una persona con una profonda cultura letteraria della quale io non condivido tutte le pubblicazioni, non condivido tutto quello che fa, però nutro un gran rispetto, tra virgolette, culturale proprio per quest'autore. Culturale perché è talmente onesto che quando produce qualcosa che non lo convince al 100%, o comunque dice che è robetta, me lo dice prima. Mi chiama e mi dice, senti, io sto per pubblicare questa cosa, ti piacerebbe leggerlo, però ti avverto niente di straordinario. E io questo apprezzo negli editori, il saper essere talmente onesto da dire quando pubblicano qualcosa che non sia all'altezza, o almeno all'altezza delle aspettative. E da questo punto di vista, a Independent puoi dire poco che è un cazzo. Ancora di più quando l'autore dell'opera è anche l'editore, ok? Stiamo parlando di una novella, novelette, scarse 80 pagine. Ma di cosa si tratta, di cosa non si tratta? Guardate, sono talmente poche le pagine, 80 pagine, che è inutile che mi metto qua a raccontarvi la trama. Diciamo che è una rilettura, tra virgolette, eretica e forse anche blasfema, ma non nel senso che all'interno ci siano una serie infida ai bestemmi, è blasfema rispetto a quella della storia, di Giovanna d'Arco. In pratica, studiando i fatti originali, Manzetti, che qui chiameremo sempre Battiago, ha riscritto, rimmaginato, ripensato l'avventura o la storia di Giovanna d'Arco in un unico solo giorno. Gli episodi di un unico giorno. Vi dico questo perché, anche da un punto di vista proprio storico, la novella non è che è dettagliata di più. Di che genere stiamo parlando? Vogliamo dire che una specie di historical horror fantasy potrebbe entrarci come denominazione Nì, perché sono fatti storici realmente accaduti, personaggi realmente esistiti, conditi di tanta fiction, cioè tanta invenzione e creatività dell'autore, ma rifiuto categoricamente le terminologie horror e fantasy. Le rifiuto perché, in pratica, anche nel momento in cui leggiamo di episodi tra virgolette oltre il normale, ovvero sia straordinari, paranormali, stiamo parlando di cose di cui all'epoca di Giovanna d'Arco si parlava ed erano considerate la quotidianità. Orrore. Cosa si intende per orrore? Io ho un concetto del termine orrore molto alto che sicuramente niente ha a che fare con le storielle che oggi i caproni chiamano weird, che non esiste come genere un horror di intrattenimento. Se quello è orrore, qua orrore non ce n'è. A meno che noi non vogliamo considerare una testa raiata un argomento che possa identificare una storia come orrore. No, non c'è quel tipo di orrore. C'è qualcosa di più. C'è la grande letteratura che fa il paio con la dimensione fantastica. Ora, voglio chiudere questa descrizione che, tra virgolette, il testo è meraviglioso, è condito anche di illustrazioni, veramente con queste alette stupende. Vabbè, lavoro come al solito straordinario indipendente. Voglio chiudere leggendovi 4-5 righe, non di più, per farvi capire proprio la prosa su che livelli si trova. Agosto 1425, Domremy. Domremy, appiattita in un vallone della Lorena, zigomo nord di Francia, col fianco sinistro levigato dalla fredda mosa e tanto carbone nella pancia. Una casa d'avorio mozzata da una diagonale di niente. Un angelo in una nicchia che sorveglia la porta sotto i minuscoli piedi, sormontata da bulbi di tulipano scavati nella pietra. Un'architrave troppo ricca per contadini da cipolle, pecore e zuppe di preghiere. Questa è la prosa che supera i confini della narrativa e accosta le terre della poesia di Battiago su Giovanna d'Arco. Devo dire, tra gli autori italiani, forse il best seller della sperimentazione. Ma sopra ogni cosa, una novella straordinaria che ci presenta una Giovanna d'Arco totalmente inedita. Fatelo vostro in tutte le librerie, store online e ovviamente sul sito Indipendia. Indipendia.